Viva le donne! Quando siamo ancora bambine abbiamo tutta la sicurezza del mondo, andiamo in giro con l'ombelico di fuori e poi se ci manca il costume non fa niente, vanno bene anche le mutande. Crescendo invece succedono cose che ci fanno dubitare di noi stesse, ci mettiamo in discussione sempre e comunque, fino a perdere tutta la sicurezza che avevamo. Tutta quell'autostima e tutta la fiducia in noi stesse vanno via. Ma se non ci fossimo lasciati condizionare, se solo fossimo state più forti, pensateci bene, ora ce ne fregheremmo di quale vestito scegliere o del tipo di voce che abbiamo. Come saremmo se avessimo la sicurezza che avevamo da bambine, se quando sentendoci dire che noi siamo abbastanza magri oppure carine, avessimo la forza e la saggezza di rispondere che noi siamo molto di più di questo. Siamo noi, guardate me, io sono così e sono fiera di essere me. E se una volta vi capitasse di uscire con me e con le mie amiche, le mie fantastiche amiche, perfette, potrei soltanto dirvi benvenute. Noi siamo donne vere, siamo così ed è meraviglioso esserlo. Siamo donne belle, sane, forti, divertenti ed anche scaltre. Questa nuova linea di pensiero non ci cambierà la vita. Solo voi potete farlo e sono sicura che ne siete capaci, credetemi. Ma questa nuova maniera di pensare è adatta per ogni donna che è pronta a credere in se stessa. Ricordatevi che voi siete tutte bellissime. A voi non manca nulla e non siete meno di nessuno. Viva tutte noi, viva le donne!